Cari amici di Prascorsano, sarà un piacere prascorrere con voi una serata parlando di rally, parlando dei miei campionati del mondo. Sono 30 anni dal mio secondo titolo, quindi sarà un piacere ricordare con voi le emozioni di quell'anno eccezionale dopo la vittoria del Mondiale 88. E quindi spero siate numerosi e spero di fare una bellissima serata. A presto, ciao, Michi Bisi.